è una bellissima serata per presentare uno il nostro ultimo progetto che non è una lampada non è un catalogo non è un libro mi piace definirlo un diario un diario di viaggio devo dire che è un bellissimo incontro con la luce se lo posso dire di avere davide groppi con noi stasera e poi all'interno di un gruppo già se lo posso permettere di dirlo già luminose e brillante le guggenheim intraprese credo che le aziende del futuro debbano vivere nell'arte perché non può essere che gli imprenditori si nutrano soltanto e semplicemente di mercato